Con Cristiana Carradori parliamo del progetto Empatia in Co. Un anno e nuovi progetti, nuove cose da fare. Quali in particolare? Allora sì, un anno di progetto Empatia in Co. su TV6, grazie anche a Vestina Web che ci supporta. Abbiamo portato informazioni sulla salute, il benessere e l'ecosostenibilità in modo divertente, facile e piacevole. Quindi sì, abbiamo avuto grandi riscontri, tantissimi incontri gratuiti e da lì quest'anno le novità saranno appunto che organizzeremo degli eventi, eventi conviviali ancora più divertenti. Il 2 di aprile saremo al Grand Hotel Adriatico, sarà una grande festa, cena vegetariana alla portata di tutti. Saranno al mio fianco due business life coach, Simone Barbato e Stefano Tassone, che animeranno e divertiranno un po' tutti. E in più ci sarà anche il dottor Pietrangeli che darà input salutari. Non svegliamo il resto della serata ma ci sarà tanto, tanto, tanto intrattenimento. Come dicevi tu prima, giustamente la particolarità di questo progetto di Empatia in Co. è quello di spiegare, di parlare di salute in una maniera leggera e anche simpatica. Simpatica, facile perché ci deve essere un po' tutto, cerchiamo di unire l'utile al dilettevole, ma cerchiamo anche di sostenere delle realtà importanti. Infatti in questo primo evento andremo a sostenere l'Assis, l'associazione, anche il progetto Spazio in Più di Pescara che ci supporta anche tanto. Noi diamo anche a loro una mano, un sostegno e quindi invitiamo tutti quanti a partecipare ai nostri incontri. Seguite le nostre pagine Facebook Empatia in Co. Siamo sul web, sarà una grande festa.